Amici del Mirage New York, questo sono io col mio bellissimo stile, sto prendendo qualcosa in questo posto eccezionale guardate come si apre la porticina, cosa ci sarà dentro, ovviamente lo scopriremo lungo il video però questo locale è pazzesco perché è tutto automatizzato, praticamente bisogna fare tutto da soli puoi anche evitare di vedere persone, vediamo dall'inizio come ho ordinato ecco qua, qui oggi ordiniamo, possiamo ordinare i dumpling, abbiamo questa specie di iPad immenso i dumpling li scelgo con un touchscreen dove scelgo anche la quantità, quanti ne voglio, le tipologie varie questo è bellissimo, fili cheesecake, potrebbe perdere veramente tantissimo tempo a scegliere tre dumpling e poi pago e mi lascia la ricevuta, dopodiché mi metto qui a lato e aspetto che l'automat mi dia il mio dumpling c'è anche una bitcoin trading machine, se volete comprare bitcoin, se vi volete avventurare guardate la ragazza qui, la signora, come aspetta che si apra perché è emozionata anche lei per questa sua prima volta, poi si inginocchia e cerca di raccogliere le sue bustine e voilà, questo è il mio amici, il mio, il mio e voilà, e finalmente guardate come si apre, si apre lentamente, dentro c'è il mio contenuto negli anni 60 New York era piena di questi automat, poi sono spariti man mano tuttavia erano secondo me interessanti, ecco ho preso il mio contenuto, lo metto nella busta oggi è il giorno di apertura di questo luogo, quindi ti aiutano perché la gente non lo so abbiamo finito qua dumplings, adesso riproviamo questo sistema degli automat era molto diffuso in passato qui a New York c'è del cibo per cibo lo bello è che i dumpling te li mettono in questa confezione praticamente sigillata guardate, lo apri un attimo, perché ho le mani, guardate, guarda, e si vede, è così e quindi poi, lo apri un attimo, guardate, è così, così questo è come pescare i pesciolini rossi e poi lo stai provando lo provi tu? no, non mi fido mmm buono a che gusto è questo? felici skate buono, prova abbiamo anche questa confezione che ho fatto conoscere una cosa nuova bisogna sempre provare queste cose nuove, i dumpling che sono i papioli cinesi vediamo com'è anche questo buono 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 però mi piace l'idea di queste vaschette erometiche molto carino va bene amici dopo aver preso i dumpling andiamo a salutare Lello bello il lavoro Davio ma si è seduto bene? si sono comodo vabbè